Ciao a tutti, buongiorno è la vostra Nica, sì sono qui con una bella scatolina Non è una collaborazione, no, perché voi quando vedete scatole poi dici No, non è un'altra collaborazione, anzi è una cosa più bella, più stupenda che, insomma, è bello ricevere Inaspettato è arrivato il regalino da Monica, che si chiama come me Sì, per chi non lo sa ancora, io mi chiamo Nica, ma il mio vero nome è Monica È l'abbreviazione di Monica Nica, ecco quello che è Lei si chiama Monica come me, e quando compio gli anni lei mi manda sempre un regalino E io ti ringrazio tantissimo, l'ho aperto, ho guardato solo appena appena sopra Perché ho detto faccio subito il video e mostro tutto insieme, così lo vediamo tutti insieme E non smetterò mai di ringraziarti di sicuro centomila volte, perché è giusto così Sei davvero stata carina, sei sempre carina veramente, perché poi mi scrivi sempre Insomma, ecco, grazie, grazie mille con tutto il mio cuore Adesso andiamo, perché prima di tutto sono curiosissima, ecco E niente, andiamo ad aprirlo Mamma mia, cioè Guardate che belli gli adesivi sopra qua Già quando apri, vedi tanti auguri, grazie E no, no, guardate il foglietto Uh, quante cose vedo, quante cose ci sono Allora È bellissimo, happy birthday Col cricci e tonso, perché sa che a me piacciono i cricci e tonso E gli unicorni, i cricci e tonso, l'unicorno infatti mi aveva scritto che l'avrebbe lasciato in bianco Così io l'avrei utilizzato per come volevo io, insomma Grazie mille, pensi proprio a tutto E mi conosci bene, ecco, più che altro è quello, guarda qua, tutte le cose che piacciono a me E poi appunto anche dentro qua intravedo già cose che piacciono a me Perciò, ecco, andiamo pian piano a togliere tutto Mamma mia, grazie Oh, allora Mamma mia Aspettate Che questo qua Ma che meraviglia sono Sono sticker Allora Allora, vorrei esserci dentro tutti questi, presumo, sì Ma che meraviglia Aspettate che adesso li andiamo a vedere Sono delle strisce di sticker Mamma mia Che decorazioni facciamo con questi Wow Ma che belli Sì, sì, sono puntastiche Bellissimi No, ma guardate Che puccio Tutti kawaii Bellissimi Allora, aspettate Facciamo così Facciamo dire una alla volta No, guardate queste Ma che belli che sono Sono sul trasparente Bellissimi Che amori Ma che meraviglia La strighetta Che bella Adesso che arriva anche Halloween Fantastici E quanti fogli sono Ma quanti me ne hai mandati Bellissimi Questi qua Io adoro questi gommolosi Qua, orsettosi Qua, tutti patatosi Qua No, sono bellissimi Non riesco a farli entrare Tutti nell'inquadratura Perché sono lunghi Sono uno più bello E dell'altro Quanti Tutti dolcetti Ma che bello Che amori Bellissimi Tutti proprio Tutti kawaii Che cori Unicoliglietto L'unicorn Bellissimi Grazie Bellissimi I quanti Oh, ne abbiamo qua Da sbizzarrirci Aspettate che li rimetto via Che non voglio Che si rovinino E non voglio perdere niente Aspettate Che meraviglia Ecco qua Poggiamo qua così Et voilà C'è un mondo qua dentro Mamma mia Allora Ma che belli Che sono Farveli vedere tutti Che cori Leni col gelato Le bibite La tazzona Con la candela Che belli che sono Wow Uno più bello Dell'altro Che belli Bellissimi Mettiamo via Man mano Mettiamo via Dunque A questa casa qua È pericoloso Far cadere le cose In terra Perché c'è qualcuno Che mangia Rosicchia tutto Allora Vediamo Altro pacchettino Caballo 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 Tattica Adesso possiamo Avvicinare Allora No che belli Con le bottiglie Con dentro Tutti i dinosauro Che Cricciaton Sono una talpona Che bello Che belle Queste Fantastiche Totoro No ma che belle Sono Meravigliosi Il gatto Astronauta Descretti Che belli Adesso Continuerò a dire Che belli Lo so Sono belli Che belle Belle Veramente Queste bottiglie Qua Che fame Molto 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 Belli Adesso Un po' Stile Vintage Come piace A me Farfalle Cuoli Che belle Guardate Questo Gattotto Che bello Gattone Bellissimi Super Super Wow Super Super Wow Veramente Belli Perché Ho visto Che Mi ha Mandato Tantissime Cose No Divento Matta No Le Principesse Wow Che Belli Rapunzel Tigro E Anna Elsa Che bello Ancora Rapunzel Bambi Alice No Ma scherzi Che decorazione Super Disney Faccio Super No Leone Winnie Pusset Tutte le Principesse No Topolino Pluto Minnie Ma sono Fantastiche Oh La mia Belle Ariel La strega Di Biancaneve No Sono Billy Jasmine Grazie Veramente Sono Una cosa Ma che belli Sono fantastici Sono tutti sticker Anche questi Bellissimi Bambi Stitch Mulan No Cioè Veramente Adoro Che devo dire Cioè No Sono meravigliosi Sono tutti uno più bello Dell'altro Mamma mia Non ho parole Veramente Non Non so proprio come Ringraziarti Aspettate Metto via Vi voglio far vedere Un attimo Scusate Guardate cosa c'è ancora da vedere Quante cose Mamma mia Allora Altro pacchettino Andiamo a vedere E qui abbiamo Wow Un po' tutto Campagna No Campagna Buonanotte Campeggio Bello Anche qua Decorazione vintage Ci sta Belli 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 Wow Il ventaglio Che meraviglia Ma che belli che sono I cialotti Coniglietti Cagnolini Fiorellini Che bel Bellissimi Anche questi Super 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 Favolosi Altro pacchettino Qua ci siamo Io vedo Un Halloween Che appare Qua Allora Mamma Che meraviglia Wow Ma sono il cartone animato Che vedevo Non mi ricordo il nome Che belli Questi qua Tutti colorati così Stile anni 90 Tutti Che belli Meraviglia Che colori Che hanno Sono molto particolari Questi Bellissimi Sailor Moon E poi qua Si gira così Ma qua sono tutti Halloween Bene Wow Questi li userò Che meraviglia Bello 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 La strega Le zucche Faccio vedere Un po' Veloci Perché se no Non finiamo più Che in pelle Però meritano Guardate che belle le zucche Tutti Tutti Meravigliosi Sei super felice Super 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 felice Tanti Tanti Adesso Altro pacchettino Ma Wow Ma quanti Ma quanti Che me l'hai mandato Allora Vediamo Spalloni Bra Tipo Questa Sono io Cagnolotta Gli occhi Che belli Anche questi qua Che meraviglia Pallone ancora La bandiera Uno più bello Dell'altro Guarda che belli Con la balena Troppo belli E' un fulgocino Di scuba Sempre Insomma No Non mi ricordo Come il nome Che carini Che belli Bellissimi Molto Molto Belli Troppo Troppo belli credo che ci siano vestibili perché meritano ma quante cose mi hai mandato aspetta che ci sono una mare anche di washi li togliamo tutti è meglio toglierli dopo perché sono sul fondo tanti che bella questa il cupcake guardate che bello adesso ci faccio una clip poi qua abbiamo ancora scatoline con sticker qua abbiamo un libriccino che è un po' stile vintage adesso andiamo ad aprirlo che bello che è lo vedo già io la faccio eh togliamo così e andiamo a la meraviglia guardate che bello proprio vintage 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 che bello lo lascio scattato che poi lo metto insieme agli altri miei libriccini allora vediamo come deve fare i timbrini che belli con i fiorellini fantastici vedete con tutti i fiorellini con i tamponcini rosa e verde e sono questi guardate facciamo così poi andiamo a vedere questo che è mio sono dentro qua e li facciamo allora questi sono un set di paper tape washi tape dal più largo al più più sottile guardate che belli sono questi qua appunto con tutti questi fiorellini bellissimi belli 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 bellissimi allora qua ci sono altri stickerini adesso andiamo ad aprire e anche qua siamo sullo stile halloween belli belli mamma mia che bella la zucca il fantasimone bellissimi questi wow belli 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 super belli bellissimi uno più bello dell'altra uno più bello dell'altra eccoci qua adesso vediamo questo è un aspetta come si chiama un pop socket di fare si chiama sì quello che tiene il telefono che bello l'ho fatto così con la rosellina potrei destarci qua sulla mia cover vediamo è bellissimo questo col fiore patatata mamma che bello 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 poi qua c'è altro pacchettino di sticker con i cuoricini con la pollettina cuoricino che io andrei a attaccarci i cuoricini qua sopra poi wow ma che originali sono questi guarda che belli sono materiale cioè sì non stoffa però sembra appunto che fatti con il jeans che belli che sono meravigliosi quanti fogli poi che belli guardate guardate stile jeans wow grazie bellissimo tutto 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 bellissimo allora impazzisco quanti sticker allora vediamo qua ci sono ancora una marea di fogli qua che belli questi qua originali wow stile acquarello questi che meraviglia castello guardate che bello fischia bellissimi wow proprio stile acquarello bellissimo questi qua mamma mia che belli non ne avevo mai visti si spike la pallina si poi qua abbiamo no quanto è cute quanto è kawaii il cutter ma è bellissimo con my melody attaccata no è troppo bello ma che meraviglia ma quante cose è pensato proprio a tutto c'è un altro librescino ancora vintage siamo ad aprilio io sono curiosa io divento matta per queste cose aspettate che andiamo a staccarlo e poi li mettiamo qua insieme e questo ha tutte uh che bello meraviglia guardate quante tutte qua che belli con quelle scritte quelle lettere tutte stile vintage bello e poi vediamo qua un altro pacchettino ah questo qua mi sembra di averli conoscerlo questo qua e andiamo busse per album di Tiger usare sullo scrap sono adesivi potete mettere sullo scrapbook che lo vendeva da Tiger quando vendeva le cose belle Tiger queste erano le cose belle di Tiger e adesso purtroppo Tiger è diventato caro e non ha più poi così tante meraviglie come una volta poi qui abbiamo un po' di sticker per sticker sticker sì per l'agenda che meraviglia anche questi shopping caffè due fogli meravigliosi anche questi ma cosa vedo allora qua c'è allora uh bello è questo allora la carta sempre per fare tutte le nostre decorazioni wow che belle super colorate super belle un insertico a tutto bella questa tutti color foil dentro dorato che meraviglia wow sono troppo troppo belle guardate adesso qua li mettiamo via se no perdo tutto che meraviglia e poi qua abbiamo no che carina ho già ancora visto qualcosa ma che amore ma no ma guardate che bello cioè sarebbe una candela ma chi ti usa no no ti metto qua subito qua qua sulla mensolina qua già al posto impostazione guardate quanto è puccio questo riccio ma è meraviglioso troppo puccioso ma che bello grazie bellissima poi ci sono un casino di aperte ma che bello questo qua va a finire nel mio zainetto nella mia borsa che metto dentro le mie cosine guardate che bella che è ma è fantastica è una pochettina un po' si può usare anche come portamonete volendo però mettete il burro cacao lo specchietto io ci metterò qualcosa sicuramente di quelle cose lì mettete nella mia borsa rossa con i cuoricini è bellissima bellissima e anche questa ma no ma ci mettiamo dentro qualcosa la qua impostazione guardate che bella bianca con i cuoricioni grazie veramente ho messo dentro le mie cosine intanto guardate ho messo dentro le mie cosine e adesso ah scusate non vi ho fatto vedere queste tre scatoline anche bisogna farle vedere qua abbiamo tutti questi gattini qua spettacolari mamma che bello sono sempre sticherini super super belli qui abbiamo altri gattonzoli tutti colorati guardate che belli queste qua sono le scatoline stupende che quando le trovate c'è sempre dentro tanti pezzi sono bellissime anche questa sempre con le zampotte i gattoni un più bello dell'altro e sono qua dietro disegnati che c'è lo sticker non si vede bene e poi adesso abbiamo sul fondo della scatola tutti aperte adesso andiamo andiamo a togliere scatolette qua ok e abbiamo questo rosa questo con i cuoricini adesso li butto dentro qua continuiamo il mio ricetto poi questo è quello con la greca con le onde le onde viola lilla scusate questo perché a me è uno dei miei uoci che io ho ne ho parecchi questi a stile little twist e veramente io li adoro ma vedi che mi conosci proprio si vede poi un altro con le onde azzurro questo con i marshmallow perché mi piacciono i marshmallow tantissimo questo bianco e nero questo con i fiorellini oh che bello questo nero con i fiori bianchi questo oh fantastico questo qua questo è un po' ali corone un po' tutto tribale bellissimo questo con i pua questo con il ventaglio questo è giapponese guardate il ventaglio il gattino quello porta fortuna un altro con le onde questo rosa azzurri blu questo con i dolcetti questo con i fiorellini tiger questo questo sempre con i cupcake mettate poi abbiamo questo con il cardiogramma questo deve essere un'arancia penso di sì poi questo con dei fiorellini le righine tutto un po' sfumato e questo qua bianco con questi fiorellini con questi foil durati e non so più da dove farvi rivedere le cose per mettervele qua così perché c'è una marea di cose sono super super felice non so come ringraziarti grazie Monica veramente perché sei davvero un tesoro mi hai mandato tantissime cose e sono super felice chi non gradirebbe un regalo così una carta pazza sicuramente sì e niente ringrazio Monica tantissima per questo regalo ringrazio voi che mi seguite e niente al prossimo video ciao ciao